C'è anche degli sportivi universitari che è una città, il nome di Grosseto lo portano in giro per questa società qui e non è che ci facciamo bella figura, quindi non è soltanto l'allenatore, i calciatori, ma qui principalmente c'è gli sportivi e tutta la città della città, quindi mi sembra giusto che Grosseto si debba ritrovare a chi si tratta di Grosseto. Hanno chiamato, il mister mi ha chiamato, ho chiamato tutti gli avvocati sia dell'AIC che dell'Aiac, quindi sono tutti allertati perché questa è una situazione veramente fantozziana. Perché oggi hai preso atto di quello che è successo? Certo, domani i ragazzi ritorneranno qui perché è giusto che loro rispettino i contratti che hanno anche nei confronti degli sportivi della città, sono ragazzi che comunque vanno tutelati anche loro. Oltre che la città e le sportive vanno tutelati anche l'allenatore e anche questi ragazzi. Quindi oggi sei anche come AIC? Sì, io diciamo che ho chiamato direttamente l'AIC a Roma perché comunque non erano ancora al corrente di questa situazione, ho parlato con loro i legali, loro si stanno muovendo, quindi dovevamo avere una certificazione che comunque loro erano impossibilitati a fare l'allenamento, domani si ripresenteranno qui perché comunque anche domani c'è l'allenamento e poi spero che i legali siano dell'AIC che ci possano far venire delle notizie un pochino più chiare. Cioè operano nei confronti dell'FC Grosseto per sapere qualcosa. Questo vedranno loro. A me mi interessano tre cose qui, l'allenatore, i giocatori, gli sportivi e la città di Grosseto. Questo è quello che mi interessa. Essendo Grossetano e mare in mano e avendo calcato questo campo, mi piange veramente il cuore vedere una situazione a questo modo. E che questa cosa vada a ricadere principalmente su questi giocatori che sono veramente dei ragazzini e dei legali, che vanno comunque rispettati.